Per alimentare la stufa Ho dieci anni e ogni giorno faccio a piedi dieci chilometri nella savana per andare a scuola. Come gli altri compagni, nello zaino porto un pezzo di legno per alimentare la stufa quando un inverno fa freddo. Noi del Burkina sentiamo molto il freddo. Alla fine delle lezioni mangiamo un po' di miglio e poi torniamo nei villaggi. Sotto il buio della sera che si piega verso di noi. Commento Le vite che ci possono sembrare ingiuste sono le migliori per chi le vive. Se noi però le riteniamo ingiuste, dobbiamo fare di tutto per renderle migliori.